Bene ragazzi, esperimento collegamento padelloni al Garrett CX Plus riuscito. Cosa ho fatto? Ho messo un connettore normale dove ho collegato i due fili della bobina trasmittente e due fili della bobina ricevente simulando i padelloni da profondità ma con due bobine normali da 20 centimetri, da 8 pollici. E adesso provo a sentire la ringhiera. Guardate. Praticamente se uno ragiona come ragionano gli ingegneri entra nel loro modo di pensare e dopo i lavori vengono fatti bene. A me piacciono i piani ben riusciti. Ciao.